Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati, diciamo così, su Squadbusters per andare a fare la nostra reaction alla presentazione del nuovo aggiornamento, nonché il primo da quando c'è stato il vero e proprio lancio globale del gioco. È un po' una sorta di Brawl Talk o TV Royale, non so effettivamente su Squadbusters come andranno a chiamarlo, Squad Talk, non lo so, mi sembra un po' troppo copiato al Brawl Talk, quindi vedremo. Mi aspetto ovviamente alla presentazione di nuovi personaggi, magari il nuovo pass, bilanciamenti vari, nuove modalità di gioco, nel senso i nuovi modificatori più che altro, anche se io spero in futuro possano esserci magari anche proprio delle nuove modalità di gioco, magari delle novità per quanto riguarda il gameplay, visto che la community comunque è richiesto molti cambiamenti, la gestione delle chiavi, la gestione dei dati, eccetera, eccetera. Poi nel dubbio, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per queste news, diciamo sì, su Squadbusters, se riesco a farli farò anche degli sneak peek delle cose in anteprima e in esclusiva dell'aggiornamento, quindi mi raccomando, raga, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, ma soprattutto vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato in tutti i giochi Supercell, compreso Squadbusters. Grazie a tutti coloro che lo faranno. Detto questo, raga, il video non dura troppo, 4 minuti e 30 circa, però mi aspetto tante belle cosucce. Andiamo. Il nuovo episodio di Squad. No, non l'hanno ancora deciso. Non l'hanno quindi ancora deciso un nome? Tra l'altro, ragazzi, ogni volta mi fermo e guardo lo sfondo. Ah, qui c'ha dei pupazzetti. Tara, Jessie e Nita si vedono abbastanza, chiaramente, anche se Tara è abbastanza tagliata. Poi qui c'abbiamo il Barbaro, la torretta di Jessie con un'altra Jessie, vabbè, sappiamo che lei, ragazzi, è fissato. Mi sembra lei faceva il cosplay di Jessie, no, vabbè. Le chest di Squadbusters, Supercell, Squadbusters. Questo che cos'è? Tipo un robottone, ci sto io davanti, ragazzi, mi tolgo al volo. Tipo un robottone, ma, boh, non lo so se lo scopriremo mai, però sembra un peluscio fighissimo. L'è il primo, Gemme, e questa sembra un'altra torretta gigante di Jessie. Vabbè, andiamo a vedere. Nel nuovo video di Squad. Vabbè, inutile che continui a mettere pausa. Ah, qua si vede meglio. Aspettate, che cos'è? Oh, vabbè, qualcuno me lo scriva nei commenti, perché non so se lo spiegheranno nel video. Il tronco, anche se si vede, questa ve l'avevo detto che era Tara. Questa è la torretta, appunto, della papera, della torretta di Jessie. Eh sì, il primo aggiornamento. Una nuova area, quattro nuovi personaggi, quattro nuovi personaggi, skin e altro. Qui, raga, vedo, oddio, uno spirito del ghiaccio gigantesco. Va bene. Nuova area, ghiacciato. Ma che fanno? Un aggiornamento ghiacciato in estate? Ma che mi rappresenta? Vabbè. Comunque, qui vediamo subito tre nuovi personaggi. Il, boh, il professore, non mi ricordo, mi si chiama, ragazzi, il professore di Boombich, Jesse. E questo mi sembra il mago di ghiaccio. Cioè, non mi sembra, è palesemente il mago di ghiaccio. Anche le skin, quindi, ragazzi, arrivano, eh. Attenzione, skin. Che poi, tra l'altro, le mega evoluzioni sembrano essere le skin, invece faranno proprio anche delle skin. Quindi anche la bandita ci sarà. In un post che avevano messo su Instagram l'altro giorno, ragazzi, vedeva anche Leon. Mi aspettavo anche... Vabbè. Tanto vediamo tutto il video e poi parliamo. Le skin. Oh mio Dio, raga. Questa è palesemente la strega. Ma sapete chi sembra? Taki si chiama. Uno dei personaggi di Demon Slayer. Molto bella, molto bella. Qui abbiamo Colt. Il barbaro, questo mi sembra. E questo è palesemente il ninja. Ok. Arriva la taiga e con essa lo stregone di ghiaccio. Il dottor T. Ok, il dottor T. Quindi è un dottore. Il dottore di Boom Beach. E la introduco per bene, Jessie. Eh, ma me lo ricordavo che faccia il cosplay di Jessie. Chissà se il colpo rimbalza. Non lo so. Comunque gioca la torretta. Raga, voglio troppo questa roba qui per la cam. Tanto io il green screen, volendo ce l'ho, voglio troppo questa cosa qui per la cam. La sua torretta appare dopo aver aperto un baule. Ah, raga, ma quel mostrone. Jessie lancia un incantesimo. Nella sua versione super, però, lancia una torretta. Che vi permette di posizionare la lattina dove volete. Ok. Lo stregone di ghiaccio ci darà un super incantesimo del congelamento. Che copre un'area più grande e dura di più di un normale incantesimo congelamento. Molto interessante, raga. Guardate i teschetti congelati. Ogni tanto metto pausa anche per vedere le cose in giro. Ovviamente non riusciremo mai a vedere tutto quanto nel video di oggi. Tutte le chicche. Qualcosa ce la perderemo, però, nel dubbio. Copre un'area appunto più grande, bla bla bla. Nella versione classica, lo stregone congela i nemici con sfere ghiacciate. E ne scaglia una sventagliata dopo quattro colpi. Ah, ok. È pronto a scatenare il suo mega granchio. Ah, è il mega granchio del Dottor T, quindi quel pupazzo che si vedeva anche dietro di lei. Ma solo se raccoglie abbastanza monete. Quindi devi collezionare monete e il mega granchio insegue le altre squadre e ignora i mostri normali. Oddio, sembra sbroccato, raga. Sembra sbroccato, ragazzi. Con la Taika arrivano quattro nuovi modi... Quattro nuovi modificatori. Madonna, quanti ce ne saranno? Sarà curioso sapere come gestiranno i vari modificatori, eh, regà. Super Spiriti del Ghiaccio riempie la mappa di Spiriti del Ghiaccio giganti. Eh, regà, madonna, sono veramente giganti, eh. E teore Golem. Fa piore al cielo Golem ricoperti di gemme. Sconti folli. I baui costano solo una moneta, figo! Cioè, devastante, eh. Calderone sputa gemme. Spuono fuori un sacco di gemme e dovrete accaparrarvi in fretta. Interessante, tipo come se ve lo portaste dietro. Avete già raggiunto il deserto, potrete giocare nella Taika per una settimana. Ok, iniziare a sbloccare i nuovi personaggi. Quindi, raga, li potreste tipo sbloccare in anteprima. Cioè, per una settimana, se siete già arrivati nel deserto, potrete comunque giocare nella Taika, diciamo così, e sbloccare i quattro nuovi personaggi, eh. Interessante. Non appena inizierà l'evento, troverete uno spirito di ghiaccio nella piazza, che era quello che abbiamo visto prima. Ok. Interessante, raga. E la bandita? Scusa, la bandita... Aspettate, andiamo un attimo indietro. Non l'hanno nominata. Ok, quindi no, la bandita non c'è per ora. Ok, alla fine dell'avventura della squadra. Non so cosa state pensando. Neve e ghiaccio a luglio. Eh, ma infatti è quello che ho detto anch'io prima. Niente panico, per scaldarci e goderci l'estate, a luglio ci sarà la festa in spiaggia. Con cui arriverà il nuovo pass delle gemme e due nuovi mega personaggi a tema. Ok, quindi il mega barbaro, ok. Belle ste skin, raga. Interessanti. Chiaramente poi le andremo a sciopare. No! No, raga, guardate che cosa ha detto, non ci credo. Io già ci speravo adesso. Abbiamo ricevuto diversi suggerimenti per i mega personaggi e le chiavi. E anche se non ci sono grosse novità nell'aggiornamento, stiamo lavorando sotto su questini. Probabilmente per se ne riparla dopo l'estate per le migliorie del gameplay. Ma l'avrebbero dovuto fa subito, raga. Eh, sulle skin, vabbè, ma l'avevamo già visti. Vabbè, raga. Sincero, avrei preferito migliori del gameplay piuttosto delle skin. Bello il king. Bellissima. Ah, no, quindi era il re, il re barbaro. Ad Agosto. No, raga, ma ci stanno già facendo vedere le cose di Agosto. Quindi vuol dire che non ci saranno altri aggiornamenti poi. Vabbè. Eh, vabbè, ci sta. Ci sta. La gallina cintura nera. No, regà, io voglio questo. No, ragazzi, io voglio questo. Questo peluccio. Io voglio, io voglio questo. Ditemi a chi devo fare il bonifico. A carta, faccio il bonifico a carta bianca. Cioè, decidete voi qua. Cioè, lo voglio per forza, lo voglio. Ma è bellissima. La bandita che è carina. Tramite un evento dedicato, le sue abilità riguardano le gemme. E ve ne fa ottenere parecchio quando appare un baule. Ah. Pensate, lei è più il mercante. È molto interessante la fuorilegge, eh. Se non riuscite a completare l'evento prima che si concluda, potete acquistare poi con le monete. Vabbè, ok. Quindi vuol dire che le monete rimarranno per tanto tempo ancora l'unica valuta del gioco, eh. Ok, quindi ci saranno... Oh, lo Yeti! Ci saranno anche proprio degli eventi, ovviamente. Allora, giocheranno molto sul fatto di fare degli eventi. Cioè, per esempio, lanciano delle truppe, l'evento della mappa in cui si giocano quelle truppe. Verrà fuori la fuorilegge, evento per la fuorilegge. Poi ci sta l'evento dei goblin. Ma cosa che stanno facendo anche tutti gli altri giochi in realtà Supercell. Perché Clash of Clans ormai ogni mese c'è almeno un evento, ogni tanto ci sono le mappe carine da attaccare. Su Brawl Stars ci abbiamo avuto appunto quello lì con Godzilla e ogni tanto ci sono delle missioni, delle robe, eccetera, da fare. Clash Royale pure ogni settimana. Quindi stanno tentando su tutti i giochi di aggiungere degli eventi settimanalmente. Ci sta, ci sta, ragazzi, ci sta. Ok. Squawk Talk. Però ci stava, eh. Come lo chiam... Eh... Ci stanno chiedendo come chiamare il Talk di Squawk Busters. Sinceramente non lo so, ragazzi, non lo so. Andatelo a commentare nel video ufficiale, insomma. Non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento. Io di sicuro voglio per forza questo peluccio gigante, cioè troppo bello. E... Vabbè, nel senso, sembra un po' un classico aggiornamento di Brawl Stars. Cioè, novità, bilanciamenti, altre cosucce, ovviamente come anche in tutti gli altri giochi. Ripeto, Squad ha bisogno di tante migliorie a livello di gameplay. Io speravo che dopo il lancio globale, dopo due, tre settimane che vedevano la gente che ci giocava, avessero preparato altre robetti. Effettivamente il tempo è ancora poco, però ho la sensazione che per esplodere per bene il gioco abbia davvero, davvero, davvero bisogno di alcuni ritocchi. E a mio avviso si devono sbrigare, perché se non entra subito nel cuore dei player, il gioco rischia di rimanere per sempre lì un attimino. Non voglio dire nel dimenticatoio, ma quasi. Fatemi sapere ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi i video che faremo sull'aggiornamento e su tutte le novità in anteprima. Codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop, insomma, Quotebusters, ma anche in tutti gli altri giochi Supercell. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuali!